E' ripresa la protesta delle aziende dell'indotto Exilva, blocco della fornitura di beni e servizi gli autotrasportatori intanto restano alla portineria C. Il ministro Urso ha risposto picchi alle nostre pressanti richieste di recupero dei crediti rilevano da Aigi. La giudicazione provvisoria della fiera pessima è oggetto di un ricorso al TAR che ha messo in crisi la campionaria a pochi mesi della sua inaugurazione. La kickboxing come sport che dà sicurezza e coraggio soprattutto in caso di necessità e violenza. A raccontarlo è la tre volte campionessa mondiale a Lizzano. Buon pomeriggio, bentrovati con l'informazione di Taranto, di Antenna Sud in primo piano la fabbrica che va spegnendosi, l'Exilva di Taranto. Ripresa oggi la protesta da parte delle aziende dell'indotto blocco della fornitura dei beni e servizi, gli autotrasportatori invece dall'altra parte restano in presidio permanente dinanzi alla portineria C. Il ministro Urso ha risposto picche alle nostre pressanti richieste di recupero dei crediti rilevano da Aigi. Il servizio firmato dal direttore Gianni Sebastio. Tornano a protestare dinanzi alle portinerie dello stabilimento siderurgico di Taranto, exilva, gli autotrasportatori di Casa Artigiani e i lavoratori delle imprese dell'indotto aderenti alla Aigi che raccoglie circa l'80% delle aziende con 4.000 lavoratori alle dipendenze. Temono di perdere i propri crediti in caso di ricorso all'amministrazione straordinaria per l'exilva così come accadde nel 2015. Chiedono garanzie sul ristoro dei crediti maturati nei confronti di acciaierie d'Italia pari a 120 milioni di euro. Siamo fermi, le aziende non possono lavorare. Chiederemo ai sindacati di l'applicazione della cassa integrazione. Non ce ne sono prospettive, lo stabilimento si spegne perché soldi non ce ne sono, il privato giustamente ha detto che soldi non ne ha e quindi noi abbiamo lavorato per non essere pagati. Dopo dieci anni, questa è la seconda volta, penso che sia arrivato il momento di dire basta, si spengono gli impianti e si chiude lo stabilimento. Con l'assenza degli imprenditori che non mandano più i dipendenti in stabilimento si corre il rischio che veramente si vada oltre e che quindi vengano messi in fase di spendimento gli altoforni perché manca il minerale, manca l'assistenza, manca tutto. Noi come autotrasportatori siamo fermi ovviamente, abbiamo fatto le nostre richieste che sono state accolte al 50% e non ci muoviamo di qua fin quando non avremo chiaro il quadro della situazione e comunque prima i nostri crediti saldati al totale delle fatture fino al 31 dicembre 2023. E c'è un aggiornamento proprio degli ultimi minuti perché il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro del lavoro Marina Calderone hanno convocato per mercoledì prossimo i rappresentanti sindacali afferenti all'indotto di acciaierie d'Italia per un aggiornamento sulla situazione anche al fine di predisporre ulteriori misure dopo quanto previsto dal decreto recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri a sostegno delle aziende e dei lavoratori dell'indotto si dice nella nota del Mimit spiegando che l'incontro segue quello avuto dai ministri venerdì scorso con le associazioni delle aziende della filiera. Voltiamo pagina, andiamo a Manduria, l'aggiudicazione provvisoria della fiera pessima è oggetto di un ricorso al Tar che ha messo in crisi la campionaria a pochi mesi dall'inaugurazione. Marcia Baldari Mancano poco meno di 20 giorni per la consegna dell'allestimento e gestione della prossima edizione della fiera pessima di Manduria datata 9 febbraio eppure tutto è ancora fermo per un ricorso al Tar a presentarlo è stata la Quiet Please, società con sede a Milano del compositore manduriano Ferdinando Arnaud, il quale aveva avanzato domanda di partecipazione al bando per l'organizzazione della fiera pessima prima ammessa e poi esclusa dalla commissione di gara per una presunta mancanza di requisiti ed è proprio questa esclusione che è stata contestata dalla società milanese che nel ricorso chiede l'annullamento della giudicazione provvisoria di tutte le fasi di gara si contesta la violazione e falsa applicazione di articoli contenuti nel bando di gara e nel disciplinare anche rispetto alle procedure adottate sin dall'inizio la Quiet Please avrebbe anche cercato un invito al chiarimento con gli uffici comunali di Manduria che pare sarebbe stato ignorato erano la mensolution alla Pirene di Milano a contendersi la gestione e organizzazione della pessima dopo l'esclusione della Quiet Please per presunta carenza di requisiti ora la parola passa al tardi Lecce che potrebbe rimescolare le carte I carabinieri a Marina di Ginosa hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne romeno presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia danno della coniuge e la richiesta di intervento notizia particolare arrivata proprio dall'uomo che ha detto di essere stato chiuso fuori da casa dalla moglie all'arrivo però dei militari è emerso secondo il racconto appunto della donna che temeva per la propria incolumità si sarebbe barricata in casa perché terrorizzata dal comportamento minaccioso e violento del marito che l'avrebbe percossa in ripetute occasioni lui è al momento agli arresti domiciliari naturalmente in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto una condanna e una presunta imputazione fino all'ultimo grado di giudizio la vittima ha spostato il proprio domicilio altrove andiamo avanti cerimonia di ordinazione episcopale per Monsignor Giuseppe Russo Tarantino di San Giorgio Ionico adesso vescovo di Altamura Gravina Acquaviva la celebrazione si è svolta a Taranto in una concattedrale gremita è stata una giornata indimenticabile quella vissuta da Monsignor Giuseppe Russo finora parroco della chiesa di San Francesco d'Assisi a Martina Franca e adesso vescovo di Altamura Gravina Acquaviva la cerimonia di ordinazione episcopale si è svolta a Taranto in una concattedrale gremita di vescovi sacerdoti fedeli familiari di Monsignor Russo San Giorgese di nascita a partire dall'emozionato padre novantenne la celebrazione eucaristica è stata ufficiata dall'arcivescovo metropolita di Taranto Monsignor Ciro Miniero accompagnato da Monsignor Nunzio Galantino presidente merito dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica e Monsignor Domenico Pompili vescovo di Verona tanti momenti da ricordare la prostrazione a terra prima della nomina l'imposizione delle mani sulla testa del vescovo da nominare da parte degli altri vescovi la preghiera di consacrazione la consegna della pastorale dell'anello vescovile il rito della dedicazione di un vescovo credo che sia uno tra i più belli della chiesa poi farlo all'interno della concattedrale credo che sia stato veramente un grande sogno perché la concattedrale è una delle chiese che noi conosciamo l'architettura non temporanea ci ha concesso tra le più belle del maestro Gio Ponti per Taranto è una realtà amata da tanto tempo da sempre le grandi celebrazioni si svolgono lì quindi per me è stata veramente un'emozione fortissima quando dal presbiterio guardavo l'assemblea soprattutto dopo l'ordinazione dopo il rito è stata veramente un'emozione forte io ho scelto come motto episcopale Pasci miei Agnelli perché è un'immagine quella del buon pastore che voglio cercare di incarnare con semplicità la cronaca adesso schianto tra due auto poco dopo le 8 di oggi sulla strada statale 7 Terza Lentina nel tratto tra San Giorgio Ionico e Monteparano poteva avere conseguenze ben più gravi il terribile schianto che si è verificato in provincia di Taranto l'impatto è avvenuto tra due auto poco dopo le 8 al chilometro 15,100 della strada statale 7 Terza Lentina nel tratto che collega San Giorgio Ionico a Monteparano per cause ancora da accertare un'auto, una Nissan condotta da un uomo ed una Jeep Renegade condotta da una donna si sono scontrate entrambe le persone alla guida sono rimaste ferite e trasportate all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto in codice giallo nessuno sarebbe in pericolo di vita stando alle informazioni raccolte il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico sul posto sono intervenute le squadre dell'ANAS per ripristinare la viabilità ma anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto la polizia locale di San Giorgio Ionico i carabinieri di Grottaglia e la guardia di finanza della sede di Manduria oltre naturalmente ai sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e trasportati in ospedale con due ambulanze i mezzi coinvolti nell'incidente sono stati rimossi da chiarire la dinamica che ha provocato il sinistro la kickboxing come sport che dà sicurezza e coraggio soprattutto in caso di necessità e violenza raccontarlo è la tre volte campionessa mondiale Gloria Peritore che ha tenuto un talk a Lizzano durante il quale ha parlato anche della sua associazione antiviolenza sono qui solo per parlare e non per combattere questa è la prima cosa che ci dice Gloria Peritore quando incontra sorridente le nostre telecamere insieme al compagno Emanuele parlare lei che per tre volte è la campionessa mondiale della kickboxing a Lizzano ha voluto togliere i guantoni e prendere il microfono in mano devo dire alcune cose importanti a detto molto spesso gli sport da combattimento vengono associati soltanto a una questione di autodifesa o ancora peggio al contrario solamente violenza in realtà non c'è niente di tutto questo ma gli sport da combattimento riescono a dare una sicurezza a livello psicofisico alle persone che magari hanno subito delle violenze oppure delle situazioni in cui si sono sentiti deboli Gloria la debolezza l'ha sentita tutta sulla sua pelle quando ci racconta di aver avuto una relazione tossica, violenta che ha affrontato prima con il corpo ritrovando il coraggio, la forza, la fiducia in se stessa sul ring poi sui palchi, sui tavoli di discussione combattendo la timidezza per parlare del suo più importante progetto la sua associazione antiviolenza The Shadow Project The Shadow Project non è solo un'associazione di promozione sociale anche andare a fare un'azione mirata ad esempio sulla prevenzione della violenza soprattutto quella sulle donne perché è uno sport che fa allenare un uomo e una donna insieme sicuramente è un ottimo allenamento per la parità di genere e per rispettare le differenze non autodifesa ma sicurezza, non antagonismo con un uomo ma scambio, comunicazione con il corpo e non solo creiamo persone non violente persone felici e persone soprattutto felici Il Movimento 5 Stelle a Taranto ha avviato una serie di domeniche ecologiche con i propri attivisti per ripulire zone degradate della città La prima giornata è stata dedicata a Piazza Bettolo Un gruppo di attivisti per pulire un luogo maltrattato dai tarantini Piazza Bettolo spesso oggetto anche di atti vandalici è l'iniziativa assunta dal Movimento 5 Stelle di Taranto che ha dedicato la prima domenica ecologica al quartiere Borgo con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini soprattutto quelli più giovani per sensibilizzarli al rispetto dell'ambiente e del decoro urbano come spiega ai nostri microfoni il Vice Presidente Nazionale del Movimento Senatore Mario Turco Ringrazio innanzitutto gli attivisti e i cittadini che hanno aderito a questa iniziativa di partecipazione attiva per cercare di porre al centro dell'attenzione della politica locale il degrado in cui la città versa e oggi con questa iniziativa cerchiamo un attimo di rispondere alle esigenze dei cittadini cercando un attimo di ridare dignità a questa piazza Diventa importante che i cittadini di Taranto si appropriano della partecipazione attiva alla politica E' stato solo il primo appuntamento previsto domenica 4 febbraio alle 10 l'iniziativa si ripeterà in Piazzale Democrata in Città Vecchia per poi toccare tutti i quartieri cittadini Già dal 4 di febbraio ci sarà un'altra tappa ci sposteremo verso la Città Vecchia infatti faremo un percorso dalle sciaglie al fiume Galeso dove anche quello è stato un luogo completamente abbandonato in questi anni e noi lo andremo a ripulire Cerimonia di consegna delle somme raccolte a Montemesola durante il periodo natalizio e destinate al reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto attraverso l'Associazione dei Genitori Agitore Quella di Montemesola è una comunità sensibile solidale con chi è in difficoltà lo ha sempre dimostrato e continua a farlo questa volta a beneficiare della sua generosità è stata l'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia la comunità ha consegnato all'Agitoe le somme raccolte durante il periodo natalizio affinché siano devolute al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto l'assegno che comprende tutte le donazioni che è davvero molto molto generoso noi neanche ci aspettavamo una così grande partecipazione sarà donato all'Associazione dei Genitori di Taranto 4.800 euro la somma raccolta frutto dello straordinario impegno delle associazioni presenti sul territorio che hanno organizzato gli eventi patrocinati dall'amministrazione comunale durante i quali promuovere la raccolta fondi tutte le associazioni che hanno partecipato e che ringraziamo ovviamente per tutto quello che hanno fatto non abbiamo veramente parole per dire quanto sono stati a sostegno di questa iniziativa strepitosa e a tutti i cittadini che hanno contribuito dando un qualsiasi contributo a sostegno del reparto di oncoematologia pediatrica della Santissima Annunziata di Taranto Restiamo in provincia ma andiamo a Pulsano con il prossimo servizio che vi racconta l'inaugurazione di un nuovo sportello psicologico per gli studenti Non siete soli Si chiama così il servizio di ascolto psicologico che l'amministrazione comunale di Pulsano guidata dal sindaco Pietro D'Alfonso ha attivato in favore di studenti e famiglie uno sportello nato per essere punto di riferimento per i giovani, per gli insegnanti che con loro devono confrontarsi ogni giorno un servizio a disposizione delle famiglie che hanno bisogno di supporto e vicinanza nel delicato processo di crescita dei propri figli adolescenti Devo dire che come amministrazione siamo sempre attenti alle esigenze dei giovani ringrazio a tal proposito l'assessore Lippolis con la delega ai servizi sociali e l'assessore Bolognino con delega alla pubblica istruzione per l'attenzione che hanno rivolto ai ragazzi Il servizio attualmente è attivo il martedì e il venerdì dalle 8.30 alle 13.30 previa prenotazione attraverso una casella di posta all'uovo dedicata Sono due gli istituti scolastici che sul territorio mettono a disposizione i propri ambienti per il servizio di ascolto e supporto psicologico Insieme all'Istituto Alberghiero Mediterraneo la comunità può contare anche sull'Istituto Comprensivo Giannone Abbiamo individuato un'aula all'interno della quale si crea questo ambiente protetto dove il ragazzo si sente diciamo al sicuro e anche a fiducia nel ruolo dello psicologo che lo aiuterà in qualche modo a gestire o un disagio oppure a prevenire Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria parteciperà alla Wine Expo Poland la fiera annuale del settore vinicolo in programma a Varsavia venerdì 2 e sabato 3 febbraio che rappresenta la principale piattaforma per il consumo di vino in Polonia Il Consorzio accoglierà i visitatori presso il proprio stand offrendo l'opportunità di degustare 24 etichette distintive approfondire la conoscenza della DOP di Manduria ma anche una serie di seminari dal titolo Discover Primitivo di Manduria il grande vino rosso pugliese organizzati dal Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria gli incontri serviranno per conoscere DOC, DOC Riserva, Dolce e Naturale e tanti altri soddisfazione dalla Presidente Novella Pastorelli che parla anche di un ruolo primario proprio dei vini pugliesi anche in Polonia è davvero tutto per il TG di Taranto restate con noi perché sta per iniziare il TG di Brindisi a tra poco piccoli segnali di miglioramento per il trentenne massacrato di botte in un locale della Movida Brindisina il suo aggressore, un ventenne è in carcere per tentato omicidio sarà presto realizzata la copertura per la sala d'attesa del laboratorio analisi del Camberlingo a Francavilla Fontana dove però restano i problemi legati alle liste d'attesa per una visita specialistica la scuola apre le porte al futuro nell'Istituto Giorgi di Brindisi giornata di accoglienza delle famiglie molto tecnologica Antenna Sud News Brindisi ben trovati, lo avete ascoltato ci sono dei piccoli segnali di miglioramento per il giovane massacrato di botte in una notte di Movida a Brindisi ecco gli aggiornamenti di Gianmarco Di Napoli restano gravissime ma con qualche piccolo segnale di miglioramento le condizioni del trentenne di Mesagne finito in rianimazione all'ospedale Perrino dopo essere stato massacrato di botte in un locale del centro di Brindisi il giovane subito dopo l'arrivo al pronto soccorso era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per contenere le conseguenze del gravissimo trauma cranico subito e successivamente posto in stato di coma farmacologico con respirazione indotta nella giornata di domenica il paziente è stato staccato per alcuni minuti dalle macchine e il risultato rende i medici cautamente ottimisti in quanto respirava autonomamente solo quando sarà fuori pericolo potranno essere determinati o esclusi possibili ulteriori danni e intanto rinchiuso nel carcere di Brindisi il ragazzo di 20 anni autore del pestaggio è accusato di tentato omicidio nonostante non abbia utilizzato armi né oggetti contundenti il particolare accanimento con il quale dopo aver tramortito con un pugno il trentenne lo ha colpito con calci alla testa mentre era per terra ha convinto la procura a ipotizzare che volesse ucciderlo le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza hanno consentito una ricostruzione abbastanza chiara alla polizia si vedono i due discutere animatamente forse anche sotto l'effetto dell'alcol e quindi il più giovane sferrare un pugno al volto dell'altro e accanirsi su di lui il ventenne non è fuggito ma è rimasto nel locale dove pochi minuti dopo è stato arrestato dagli agenti della sezione volanti ora è in carcere in attesa dell'udienza di convalida davanti al GIP una ferma condanna di questo gesto affidata ai nostri microfoni dal sindaco Marchionna una riunione speciale per la commissione servizi sociali del comune di Brindisi che si è riunita per confrontarsi dopo l'episodio di violenza l'aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica nel pieno centro cittadino ovviamente l'obiettivo è quello di non sottovalutare l'episodio ma anche di non ingigantirlo con la necessità comunque di mettere insieme un percorso che si metta all'ascolto del territorio presente anche il primo cittadino Giuseppe Marchionna che ha rilanciato in confronto anche con i gestori dei locali presenti in centro così come è avvenuto per la movida estiva in quella occasione avevo proposto a carico degli esercenti un servizio di security di guardie giurate regolarmente registrate quindi estremamente professionalizzate come tutele, come assistenza agli stessi clienti cercherò di convocarli per verificare la loro disponibilità che ovviamente deve essere considerata come aggiuntiva rispetto a quella delle forze dell'ordine della polizia locale che cercheremo di organizzare il fatto in sé quello che è successo sabato e domenica è estremamente grave capisco bene che possa indurre una percezione di insicurezza nell'opinione pubblica rispetto a questo oltre ad attivare il nostro comando della polizia locale mi attiverò anche con il signor prefetto e con il signor questore per definire alcune iniziative più immediate che abbiano un senso di risposta chiara dello Stato e delle istituzioni a questa vicenda che ha estremamente colpito tutta la città Sarà sepolta nel cimitero di Torchiarolo la salva di Maria Antonietta Panico la donna di 42 anni trovata morta nel suo appartamento a Trento Tornerà nella sua Torchiarolo la salva di Maria Antonietta Panico la donna di 42 anni trovata morta nel suo appartamento a Trento il 17 gennaio scorso il corpo è stato restituito alla famiglia dopo l'esame autoptico disposto dalla procura per accertare le cause del decesso e la constatazione che non c'erano segni di violenza la morte sarebbe avvenuta per cause naturali probabilmente due giorni prima del ritrovamento del cadavere i funerali si svolgeranno martedì a Trento nella chiesa del cimitero monumentale trasferitasi da 20 anni in Trentino Maria Antonietta aveva avuto modo di farsi apprezzare integrandosi perfettamente tanto da partecipare anche alla vita politica locale ed è qui che è nata sua figlia oggi 16enne successivamente accompagnata dai genitori Rosario e Galeana e dal fratello Lucio la salma lascerà per l'ultima volta il Trentino per fare ritorno in Puglia mercoledì sarà ricomposta a Torchierolo nella sala funeraria di via Bengasi e alle 15.30 nella chiesa madre sarà celebrata una messa per la sepoltura sarà presto realizzata la copertura per la sala d'attesa del laboratorio analisi dell'ospedale Camberlingua a Falcavilla Fontana dove però restano i problemi legati alle liste d'attesa per una visita specialistica ancora troppo lunghe un problema quello di una sala d'attesa per il laboratorio analisi che lascia gli utenti al freddo e al gelo sarà presto parzialmente risolto con una copertura doc che sarà realizzata nelle prossime settimane per risolvere l'altro problema quello dei lunghi e alle volte infiniti tempi d'attesa per una visita specialistica servirà molto di più e anzi chissà che sia davvero superabile dopo le segnalazioni giunte in redazione una mattinata all'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana conferma la buona volontà dell'asl messapica la sala d'attesa per il laboratorio analisi sarà realizzata nelle prossime settimane e permetterà agli utenti in fila di restare riparati durante l'attesa per il prelievo essendo diciamo concepita in questa maniera tutta aperta crea effettivamente delle difficoltà per ovviare noi abbiamo già giudicato una gara per il completamento di questa di questa struttura a breve partirà e quindi ritengo che in un mesetto il problema sarà risolto e gli utenti potranno diciamo tranquillamente accomodarsi in una struttura diciamo più confacente tutta altra storia invece per una visita specialistica ancora una volta l'utenza si lamenta giustamente niente non lo trovi da luglio la ricetta del 3 luglio non c'è un giugio ancora niente tutte le volte non dare appoglimento buongiorno signora avete fatto la prenotazione a cup no e c'è prenotazione qua è buono quello che dano proprio all'ospedale per fare una prenotazione se ne parla a dicembre 2024 25 secondo come vuole questo è tutto stiamo proprio precipitati grazie mille questi sono i politici che abbiamo ho sbaglio ti voglio io sono stata operata di polmone ogni anno devo fare il controllo non c'è posto riesce a pagamento 600 euro di pensione vi chiedo va bene va bene a Coglieme sapi che invece il ricordo di un carabiniere è scomparso Michele Giurlano hai rispettato giuramento senza esitare un momento caro Angelo che sei lassù proteggi tutti noi qua giù sarai per sempre amato e dal mondo ricordato nel dolore del ricordo il sorriso più bello lo regalano studenti e studentesse che con un pensiero con una rima hanno reso quel sacrificio un modello un'icona di coraggio e senso del dovere Coglieme Sapica non dimentica non lo fa la sua famiglia lo Stato non lo fa l'arma dei carabinieri che nel luogo dell'Eccidio ha ricordato la medaglia d'oro al valor militare Angelo Petracca la deposizione della corona dall'oro lì dove l'ausiliario originario di Casarano perse la vita ucciso dalle pallotto l'esplose dalle pistole impugnate da una banda di rapinatori è il simbolo di una memoria collettiva consapevole e commossa oggi con commozione ricordiamo questo figlio dello Stato a cui siamo grati perché ha sacrificato la sua vita giovane ventenne per la comunità per la legalità e quindi siamo grati a lui siamo grati alla famiglia e siamo qui diciamo anche perché questo ricordo questo ricordo venga condiviso soprattutto con i ragazzi che oggi ho visto qui e ho visto molto consapevoli assolutamente un sacrificio che non va dimenticato a noi il dovere di ricordare specie ai più giovani ma non solo ai più giovani come dire le motivazioni che mossero questo giovane di vent'anni ad immolare la propria vita per la salvaguardia degli ideali di legalità e di giustizia perché il suo gesto vano non resterà e adesso con Fabrizio Caglianiello facciamo il punto sullo sport brindisino dal calcio al basket fine settimana agrodolce per le squadre brindisine iniziamo dalla serie cd calcio ha il sapore dell'impresa il pareggio della Virtus Francavilla sul campo della corazzata Crotone la squadra di Occhiuzzi sfiora il colpaccio e conquista un punto preziosissimo inatteso Francavilla in vantaggio al settimo con uno dei nuovi acquisti Gabriele in grosso pareggio calabrese nella ripresa con Alessio Tribuzzi finisce uno a uno domenica prossima la nuova redorena arriva il foggia torna a far punti anche il brindisi che frena il cerignola nel franco fanuzzi forse la miglior prestazione stagionale per la squadra di Roselli che però spreca tantissimo cerignola in vantaggio nella ripresa con Leonetti pareggio del brindisi dieci minuti più tardi con il neo acquisto Bagatti arrivato poche ore prima del match è subito in campo passiamo al basket perde ancora la epicasa al palapentassuglia ennesimo suicidio sportivo per la squadra del presidente Nando Marino che crolla nuovamente nel finale Napoli ringrazia e impacchetta la partita 80-77 il punteggio finale la scuola apre le porte al futuro nell'istituto Giorgi di Brindisi giornata di accoglienza delle famiglie Anna Saporano la scuola che apre le porte alle famiglie al territorio una scuola che intercetta i bisogni dello stesso e li trasforma in proposte formative per i giovani che stanno costruendo il proprio futuro e le nuove professioni sono veramente tante molte di queste nei settori tecnici per questo l'istituto tecnico tecnologico Giovanni Giorgi di Brindisi ha aperto le porte alle famiglie delle studentesse e degli studenti di terza media per l'occasione è stato inaugurato il progetto STEAM e dintorni quando l'innovazione incontra la didattica di ogni giorno progetto che consiste nella possibilità di partecipare all'interno delle giornate di apertura della scuola a brevi laboratori monotematici su uno specifico argomento del piano di studi a misura degli alunni di terza classe per suscitare il loro interesse e la loro curiosità ormai ormai il mondo del lavoro detta anche un po' di regole per quelle che sono le scelte delle famiglie ma anche le scelte della scuola nel nostro caso noi siamo in studio tecnico tecnologico non abbiamo nuovi indirizzi ma abbiamo appunto potenziato quelli già esistenti perché quelli che ci sono già comunque rispondono alle esigenze del territorio per cui non era necessario assolutamente aggiungere nuovi indirizzi ma sicuramente potenziare alcune articolazioni già esistenti nel nostro istituto per l'occasione alle famiglie è stato anche presentato un progetto interessante un calendario con le foto di luoghi simbolo di Brindisi l'obiettivo è farli conoscere far vedere come erano e quali sono i progetti per avvalorizzarli le foto che catturano la bellezza del monumento al marinaio del Cillarese del Tommaseo del Bosco Urbano passando per il lungomare Regina Margherita sono state scattate principalmente dagli studenti è tutto anche per Brindisi adesso una breve pausa e poi come sempre il nostro TG di Lecce una presunta relazione violenta è la denuncia della donna di 63 anni nei guai finisce l'ex assessore del comune di Lecce è stato ritrovato senza vita intanto nelle campagne di Salice Salentino il 47enne di Lecce di cui non si avevano notizie dal 17 gennaio insulti e offese nei confronti della sindaca Laura Manta da parte di un consigliere comunale di minoranza a Collepasso durante un comizio ha fatto incassare ai comuni del Salento ben 23 milioni di euro l'erogazione di multe per le infrazioni del codice della strada segnalate dai 9 autovelox presenti sulle principali arterie il telegiornale di Lecce di Antenna Sud ben trovati lo avete ascoltato in apertura una storia molto particolare a quanto pare una relazione violenta con conseguente denuncia protagonista a suo malgrado una donna di 63 anni nei guai finisce un ex assessore comunale di Lecce Maria Teresa Carrozzo una storia di violenza di genere a Lecce che vede al centro un noto ed ex assessore del comune di Lecce la donna vittima di violenza da parte del compagno ha deciso di porre fine a una relazione che sembrava amorevole ma che si è rivelata un incubo la storia iniziata 4 anni fa ha portato i due a convivere lo scorso anno tuttavia la donna ha scoperto che il compagno intratteneva numerosi rapporti sentimentali e sessuali con altre donne prestazioni finanziarie e assistenza sanitaria erano all'ordine del giorno con la donna che afferma di aver donato fino a 80.000 euro al suo compagno la situazione ha preso però una piega negativa quando durante un delicato intervento chirurgico dell'uomo la donna ha scoperto messaggi espliciti sul suo telefono rivelando relazioni extraconiugali l'ultimo atto violento è avvenuto l'8 gennaio scorso quando minacciata di morte la donna è stata colpita alle ginocchia e alle gambe con una stampella subendo anche tentativo di strangolamento la vittima difesa dall'avvocato Nicola Caroli ha denunciato l'aggressione in questura e si sta sottoponendo a cure psicologiche per affrontare il trauma il questore di Lecce Massimo Modeo ha emesso una misura di ammonimento intimando l'uomo di cessare ogni comportamento vestatorio la donna ha iniziato inoltre un percorso di recupero per ricostruire la sua vita e il suo benessere psicologico è stato ritrovato senza vita nelle campagne di Salice Salentino il 47enne di Lecce di cui non si avevano notizie dallo scorso 17 gennaio Francesco Schiavano tragico epilogo delle ricerche di Stefano Del Vecchio l'uomo originario di Lecce che il 17 gennaio si era allontanato dalla sua casa a bordo di una dacia d'aster nera senza dare più notizie di sé ai familiari nella mattinata di lunedì nelle campagne di Salice Salentino è stato ritrovato il cadavere dell'uomo che si sarebbe tolto la vita impiccandosi la mara scoperta è stata fatta proprio dai soccorsi che in seguito alla denuncia presentata dalla famiglia e il tavolo tecnico in prefettura in questi giorni hanno continuato a cercare il 47enne senza sosta la zona del ritrovamento è stata immediatamente raggiunta dai carabinieri per i rilievi del caso parole shock insulti e offese nei confronti della sindaca Laura Manta da parte di un consigliere comunale di minoranza durante un comizio è successo a Collepasso ancora una volta da Piazza Dante a Collepasso giungono frasi shock nei confronti della sindaca Laura Manta gli attacchi partono nuovamente dal consigliere comunale di minoranza Salvatore Perrone nel corso di un comizio che ha riguardato vari temi tra cui la situazione dei consorsi di bonifica quella dei bagni pubblici e i lavori che stanno interessando varie arterie cittadine Perrone già nel febbraio scorso aveva rivolto offese contro la prima cittadina che dal 2021 indossa la fascia tricolore del comune salentino no tu non sai come funzionano le cose sempre tu cercava sempre di stigare per vedere se o prendo la serie e la tiro perché sa che ogni tanto prendo la pazienza e non mi controllo neanche io ma arriverà forse un giorno come in quell'episodio anche questa volta è stata proprio Laura Manta a denunciare quanto accaduto con un post su facebook esprimendo anche tutto il suo sdegno verso chi era presente all'evento compiaciuto della violenza verbale che è stata perpetrata nei suoi confronti tuttavia se gli sproloqui di Perrone non fanno più notizie imbarazza e non poco la presenza alle sue spalle di altri aspiranti politici locali che ascoltavano compiaciuti queste prodezze evidentemente condividendone toni e propositi nessuno infatti si è dissociato imbarba a tutti i bei discorsi contro la violenza verbale di genere sulla correttezza politica di cui tanto si vantano nei loro post scrive la sindaca lascio a voi ogni giudizio pensate i comuni salentini hanno incassato oltre 23 milioni di euro grazie ai 9 autovelox posizionati sulle arterie cittadine e chiaramente anche che collegano le diverse città i comuni della provincia di Lecce hanno incassato 23 milioni di euro in seguito all'erogazione di multe per le infrazioni del codice della strada segnalate dai 9 autovelox presenti sulle principali arterie salentine i dati resi noti dal Codacons fanno riferimento al 2022 quindi prima del riordino decretato dal prefetto Luca Rotondi particolari secondo quanto segnala il report i casi di Cavallino Surbo e Melpignano nel primo comune le entrate sono di 2 milioni 520 mila 121 euro grazie all'apparecchio di rilevazione della velocità installato sulla statale 16 Lecce Maglie la città di Surbo invece ha incassato 309 mila 580 euro che salgono a 720 mila 22 euro a tre puzzi grazie ai tre autovelox installati sulla statale 613 Lecce Brindisi i maggiori introiti vanno però a Melpignano 2 milioni 545 mila 445 euro proventi delle infrazioni segnalate dagli autovelox sulla statale 16 Lecce Maglie non è mancato da parte del Codacons un appello rivolto ai comuni finalizzato ad un uso più accorto degli autovelox troppo spesso installati al solo scopo di fare cassa e utilizzare i cittadini come veri e propri Bancomat A Lecce il senatore Marti in prefettura alla presenza delle massime autorità ha consegnato una medaglia ad un carabiniero a dei carabinieri che hanno salvato un bimbo ecco la storia Un riconoscimento a coloro che ogni giorno pattugliano il territorio e che spesso si trovano a dover affrontare le situazioni più delicate e questo è il messaggio che il presidente della settima commissione al senato Roberto Marti ha voluto dare a due carabinieri che nei giorni scorsi hanno salvato un bimbo di pochi mesi dal soffocamento una medaglia consegnata ai due eroi alla presenza delle massime cariche presso la prefettura di Lecce Un simbolo diciamo il presidente della commissione infanzia in questo caso pubblica istruzione intende dare forza dare ancora più coraggio a tutti quegli uomini e quelle donne delle forze dell'ordine che lavorano in silenzio costantemente anche in condizioni veramente di difficoltà Ricordi di quel momento che sono ancora caldi nella mente dei due agenti Riceve una medaglia oggi la chiamano eroe lei si sente eroe? No assolutamente perché come ho avuto modo già di precisare a mio avviso l'eroe è colui che rischia la propria vita per fare qualcosa di buono per gli altri io ho fatto solo qualcosa di buono ma non ho rischiato nulla quindi non mi sento un eroe Il brigadier di Cazzia era molto scosso della vicenda però insomma soddisfatti di quanto era successo Parole di gratitudine anche da parte del prefetto Luca Rotondi In questo caso soprattutto quando ci troviamo di fronte a situazioni di emergenza il potere salva la vita era un intervento provvidenziale sicuramente ci dà la gioia di sapere che una vita è stata salvata e riconoscere anche all'arma una grande capacità di intervento anche in situazioni che non sarebbero istituzionalmente direttamente riconducibili alla classica tutela del territorio ed orgoglio da parte del comandante provinciale dell'arma Io sono orgoglioso di essere il comandante di questi uomini orgoglioso di industriare questi uniformi che rappresenta dei valori in cui ci ritroviamo tutti noi carabinieri e adesso ecco l'analisi di Nevio Darpa il CEO di BTM per la stagione turistica invernale della provincia di Lecce ma gli abbiamo chiesto anche qualcosa rispetto alla prossima quella estiva Dal 27 al 29 febbraio BTM si rappresenta alla Fiera del Levante per incontrare le più grandi aziende del turismo e approfondire con loro le tematiche più importanti del settore Il CEO di BTM il Leccese e Nevio Darpa ha parlato in termini molto positivi del turismo invernale nel Salento e con ottimismo della prossima stagione estiva Quali sono stati i dati e anche le percezioni della stagione invernale e invece quali sono le proiezioni di quella estiva? Allora le percezioni per l'estiva partiamo da lì è una percezione di richiesta di turismo soprattutto del lux fino al 2025 a livello nazionale i dati cresceranno del 6% dagli ultimi dati statistici presentati dal TTG Per quanto riguarda invece la stagione invernale è molto bene soprattutto le città d'arte come Lecce abbiamo avuto un ottimo riscontro in termini di arrivi e di presenze anche visto la grande presenza di eventi culturali che hanno poi fatto scegliere i turisti di raggiungere la nostra città Così si deve e cosa si può ancora fare per migliorare? Sicuramente c'è ancora tantissimo da fare soprattutto lavorare per le infrastrutture e sui collegamenti che è uno dei temi principali sicuramente la programmazione perché riuscendo a presentare come stanno facendo oggi insomma il calendario 20 una persona che vuole venire sul nostro territorio si organizza in maniera più completa su quello da fare e da vedere E tutto anche da Lecce e provincia grazie per la vostra cortese attenzione arrivederci Rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo grazie a tutti di Puglia grazie a tutti Giacomo di Puglia chiude